ciao a tutti ragazzi sono l'unico e solo e oggi siamo tornati su agar io che è un gioco che mi piace un casino giuro mi piace un botto mi casa un sacco l'unico solo è la podcast di ace è tra i primi 3 tanto è small poi io sono un grande appassionato di one piece no devi starmi lontano zio hai capito devi starvi lontano tutti dovete starvi lontani ma avete già tutti i maloni basta cosa volete da me sono 87esimo non ci arrivate primi neanche se pregate in turco tanto diventerò primo io no perchè io l'ho mangiato da anni costo in ferro su un peccone su moco giocare coiosti maledetti che ti mangiano subito il non ha manco il tempo di dai vai ventesimo bomba anti il quale vai funnò connolmi 9 non ce l'ho capito Vai da lui, vai da lui Non è che dovete scassare i malogni a me Non è che quello si mangia Le bombe Ma te che quello mi odia Ma te che quello mi odia Marecchio che è la seconda volta che mi mangi Togliti ma Riasca questo Si vola Si vola Si vola Che odio, una cellula senza nome Quanto vi odio Ma non ci avete più un cazzo da fare nella vita che dovete mangiare me Un cazzo No se questo vuole mangiare veramente un nabbo Cioè sarà grosso ma nabbo perché è impossibile dai Cioè Grazie ragazzo Ma hai dato il cibo e ti ne sei andato Cioè pensavo fosse un trick Cioè tanto sono troppo piccolo Quindi il trick funzionava e me ne battevo Perché tornavo indietro No no me ne battevo perché poi ti mandavo giù tutte le madonne Però Si me ne battevo un pochino No no a grandi come me No Liberto non è più Non è la grande Come me invece Ma è che sono quarantesimo? No vai che devo scappare Non vai che sono quarantesimo Via 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 Più lontano che posso No 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 Datevi tutti i tuoi attiviti No Cosa fai tu Cosa fa questo Bastardo Tutti delle merde su questi server Li odio tutti Non c'è uno che non odi Eh sì anche se sai di FK non possono giarti Perché sono la metalite Oh ho 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 Ne ho mangiato uno Alla faccia Questo invece gigantesco Comunque raga che bello Arrivare l'unico e solo Nel nome della cellula Che fa figo A me mi rende fiero Ce mi fa sentire fiero il nome del canale sulla mia cellula di agarino faccio anche un po' io sto sono ma vai ma non ci credo ma se veramente beh allora vediamo di ricomporci un attimo allora no non hai capito un cazzo cioè vai a ricomporci ma no che no 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 via 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 vedete tutti da me scappare scappa 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 diavolo 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 no perchè mi sono diviso perchè sono scemo sono tornato in tutt'uno ma sono 74esimo non ci voglio credere ma fai ti ammazzo ti ammazzo la famiglia l'ha lagato per gli as guests vediamo di combinare qualcosa cioè secondo me quelli che sono primi sono qua dalle 6 di mattina quando non c'era nessuno quindi hanno potuto mangiarsi tutti quelli pochi che c'erano mangiarsi tutti i cibi e diventare giganteschi secondo me sono lì tipo più che dalle 6 ma siamo seri ma mi hai spuntato mi hai spuntato dalla bomba ma siamo seri no ma io non ci voglio credere guardatevi dovete toglierevi dalle palle non avete capito devo continuare a dividere devo continuare a essere piccolo perchè questi stronzi qua mi vogliono mangiare ma non potete mangiare quelli più grossi di me no dovete mangiare me perchè io sono piccolo non vi do cibo cosa ve ne frega di prendermi poco cibo perchè lagga perchè lagga è solo pochino più del doppio di me cioè ti sei diviso male adesso sei scevo perchè non puoi più mangiarmi neanche se volessi nooo tu non mi mangi tu non mi mangerai tu non mi mangi non hai capito un cazzo un cazzo ah come al solito se vi vi piaciuto lasciate un commento e mi piace se non siete ancora iscritti iscrivetevi seguitemi nei social che come in ogni video trovate nella descrizione e ci vediamo e ci vediamo al prossimo